Ciao a tutti, secondo video di esercizi dedicato alla determinazione dell'equazione di una circonferenza, noti alcuni dati. In questo problema dobbiamo determinare l'equazione della circonferenza che ha il centro nel punto di intersezione di queste due rette, quindi faremo il sistema tra queste due equazioni per poter determinare il punto di intersezione di queste due rette che sarà il centro della circonferenza. Poi la circonferenza è tangente a questa retta. Iniziamo da qui e molto comodamente al posto della seconda equazione sostituiamo la somma tra la prima e la seconda per eliminare la y, cioè 3x più x fa 4x, meno 2y più 2y fa 0, meno 4, qui il termine noto è 0 quindi rimane meno 4 infine uguale a 0. Da qui otteniamo 4x uguale 4 che ci dà x uguale a 1. Nella prima sostituiamo x uguale a 1 e possiamo determinare quanto vale y. x uguale a 1, 3 meno 2y uguale a 0 vuol dire 3 uguale a 2y e quindi y uguale a 3 mezzi. Abbiamo ottenuto il centro della circonferenza con coordinate 1, 3 mezzi. Noto il centro, scriviamo chi sono a e b, a è meno 2 volte, la y del centro. Poi dobbiamo utilizzare l'informazione relativa alla tangenza, cioè la circonferenza è tangente alla retta x meno y meno 1 uguale a 0. Quindi scriviamo x meno y meno 1 uguale a 0 a sistema con x al quadrato più y al quadrato più ax, a la conosciamo, più by, conosciamo anche b, più c uguale a 0. Dal momento che da qui possiamo scrivere che x è uguale a y più 1, sostituiamo nella seconda equazione, al posto della x, y più 1. Ora sviluppo il quadrato del binomio, moltiplico meno 2 per la parentesi e ottengo y quadro più 2y più 1 più y quadro meno 2y meno 2 meno 3y più c uguale a 0. Ora sommo i termini simili, questo va via con questo, rimane meno 3y, 1 meno 2 fa meno 1 più c. L'obiettivo è avere un'equazione di secondo grado in y nella quale imporre la condizione di tangenza. Perciò determiniamo il delta da questa equazione. Delta è b al quadrato meno 4 volte a per c, lo scrivo come c meno 1, cioè 9 meno 8c più 8 uguale a 0. Vuol dire 9 più 8 fa 17, 17 meno 8c uguale a 0 ci dà che 8c è uguale a 17, cioè c è 17 ottavi. Abbiamo a uguale a meno 2, b uguale a meno 3, c è 17 ottavi. Possiamo scrivere l'equazione della circonferenza x quadro più y quadro meno 2x meno 3y più 17 ottavi uguale a 0. Se vogliamo avere coefficienti interi moltiplichiamo tutto per 8 e abbiamo 8x al quadrato più 8y al quadrato meno 16x meno 24y più 17 uguale a 0. Pertanto abbiamo concluso questo problema. Naturalmente possono esserci problemi più complicati ma che riguardano sempre delle operazioni che possono essere ricondotte a cose già viste. Vediamo ancora questo problema. Determina l'equazione della circonferenza passante per l'origine è per i punti di intersezione della retta di equazione y uguale a meno 2x più 2 con l'asse delle ordinate e con la bisettrice del secondo e quarto quadrante. Intanto l'equazione della circonferenza che passa per l'origine ha c uguale a 0. Prima informazione. Poi i punti di intersezione della retta di equazione y uguale a meno 2x più 2 con l'asse delle ordinate si determinano facilmente perché y uguale a meno 2x più 2 l'asse delle ordinate ha equazione x uguale a 0 perciò da qui determiniamo y uguale 0 più 2 che fa 2. Quindi questo è diciamo così il secondo punto. Quindi questo è un punto per cui passa la circonferenza e poi l'altro punto per cui passa la circonferenza lo determiniamo facendo l'intersezione tra l'equazione della retta e l'equazione della bisettrice del secondo e quarto quadrante che è questa. Perciò al posto di y mettiamo meno x risolviamo e abbiamo 2x meno x fa x uguale 2 y uguale a meno x quindi uguale a meno 2. Abbiamo due punti per cui passa la circonferenza e abbiamo un'altra informazione che è il coefficiente c uguale a meno 0. Pertanto il sistema di tre equazioni sarà c uguale a 0. Imponiamo il passaggio per il punto 0 2 quindi x al quadrato fa 0 y al quadrato fa 4 più ax non lo scriviamo perché x è 0 più by più c uguale a 0 e infine imponiamo il passaggio per il punto di coordinate 2 meno 2 quindi 4 più 4 più 2a meno 2b più c uguale a 0 però c uguale a 0 pertanto la eliminiamo da queste equazioni. Ci rimane dalla seconda 2b uguale meno 4 quindi b uguale meno 4 mezzi che fa meno 2. Nella terza abbiamo 8 più 2a meno 2b vuol dire più 4 uguale a 0 ovvero 2a è uguale 8 più 4 fa 12 lo porto a secondo membro a uguale a meno 6. Ordinando le cose abbiamo a uguale meno 6 b uguale meno 2 c uguale a 0 che ci porta a questa equazione x al quadrato più y al quadrato meno 6x meno 2y uguale a 0. Spero che questi problemi vi siano utili. Intanto vi chiedo di lasciare un like e di condividere l'esistenza del canale. Nel prossimo video della playlist vedremo le posizioni reciproche tra circonferenze quindi sarà un video teorico ma vedremo anche degli esempi pratici quindi dei problemi relativi alla posizione reciproca tra circonferenze. Perciò seguite anche il prossimo video io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao